Dottor Vianello a proposito di prodotto ci racconta quanto sono sostenibili le cucine valcucine a partire dai materiali ma anche tutto il resto le zero emissioni è anche un progetto che avete voi di riforestazione per compensare le emissioni di co2 certo la storia di valcucine negli ultimi 40 anni si caratterizza per tutta una serie di innovazioni che sono avvenute che hanno portato l'azienda ad essere appunto il leader in questo settore ed essere riconosciuta appunto come un'azienda che fa sostenibilità veramente nei propri prodotti mi piace ecco ricordare noi abbiamo presentato a Milano la Milano Design Week uno studio nuovo della nostra linea storica riciclantica quindi il nome credo sia già è un programma che è una linea che ha un'anta particolare quindi ha un'anta che è incastonata in una struttura di alluminio tra l'altro materiale riciclato barra e riciclabile e all'interno di questa struttura di alluminio è viene alloggiata un'anta che è a uno spessore di due millimetri quindi è l'anta più sottile al mondo quindi utilizzare un'anta di due millimetri rispetto ad un'anta tradizionale significa sostanzialmente utilizzare l'ottanta per cento di materiale in meno e questa appunto è la riduzione di uso di materia che è uno dei driver principali sui quali sui quali lavoriamo poi come ricordava lei infine bio forest mi lasci conclusione ricordare questa cosa la quale tengo molto associazione non profite insieme a valcucine fondata nel 1988 quindi in tempi non sospetti che si pone l'obiettivo proprio di compensare le emissioni di co2 attraverso progetti di riforestazione in questo momento stanno finanziando da un po di anni un bel progetto in in ecuador 11 in kenia e uno anche localmente in italia